Ciao a tutti ragazzi, io sono Daniele, bentornati sul canale di progetto. Quest'oggi riprenderemo l'argomento dei calcolatori quantistici e in particolare parleremo del teletrasporto quantistico. Questo argomento è piuttosto complicato sia da spiegare che da capire, però cercheremo di renderlo un pochino più semplice in quanto è un argomento molto interessante perché il teletrasporto quantistico lo si sta cercando di applicare in alcuni ambiti della scienza come ad esempio i radar o il trasporto di informazione, quindi una sorta di internet con teletrasporto quantistico. Detto ciò, che cos'è il teletrasporto quantistico? In sostanza il teletrasporto quantistico è una tecnica per spostare degli stati quantistici anche in assenza di un canale di comunicazione quantistico che collega il mittente al destinatario dello stato quantistico. E ora arriva la parte complicata. Come funziona? In sostanza prendiamo un personaggio che si chiamerà Alice e un altro personaggio che si chiamerà Bob. Ipotizziamo che Alice e Bob si incontrarono tanto tempo fa ma che ora, insomma, vivono molto distanti. Durante il tempo speso assieme, essi hanno generato una coppia ERP. Durante la separazione, poi, ognuno dei due si è portato via una metà della coppia ERP. Molti anni dopo, mettiamo che Bob sta cercando ancora, tra virgolette, di nascondersi da Alice. Mentre Alice, insomma, vuole prendere una decisione importante e quindi questa decisione è inviare o meno un qubit V a Bob. Lei stessa, purtroppo, però, non conosce lo stato di questo qubit e inoltre può inviare soltanto un'informazione classica a Bob. Intuitivamente, la situazione di Alice è pessima. Lei non conosce lo stato di V del qubit, dai biarabob e le leggi della meccanica quantistica le impediscono di determinare questo stato dal momento in cui lei possiede solo una singola copia di V. Ma ciò che è anche peggio è che anche se lei conoscesse lo stato di V descriverlo precisamente necessiterebbe di un ammontare praticamente infinito di informazioni in quanto V, sapete che l'abbiamo già detto rappresenta valori appartenenti a un dominio continuo. Quindi, anche se lei conoscesse V ci vorrebbe, in sostanza, un'eternità per descrivere lo stato a Bob. Quindi, in sostanza, notiamo che per Alice è un po' un momento difficile. Fortunatamente, per Alice, il teletrasporto quantistico è un modo per andare ad utilizzare la coppia RP in entanglement per inviare V a Bob. E tutto questo con un solo piccolo sovraccarico di informazioni classiche. Gli step per usufruire di questa soluzione sono i seguenti. Che cosa deve fare Alice? Innanzitutto, deve fare interagire il qubit V con la sua parte di coppia ERP. Successivamente, cosa fa? Misura i due qubit dei quali è in possesso ottenendo quattro possibili risultati classici. Quindi, lei, dopo la misurazione, va a ottenere 00, 01, 10 e 11. A seconda del messaggio classico di Alice, quindi dipende dal messaggio classico di Alice, Bob svolge un'operazione e riesce a recuperare lo stato originale di V. Quest'operazione, appunto, sottolineo che dipende dallo stato classico di Alice. Ora vi vado a disegnare un circuito quantistico che descrive meglio il teletrasporto. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 un C-not tra V e parte della coppia RP, questa parte sopra della coppia è quella di Alice, al quale viene poi passato un gate di Adamard e si va a effettuare la misurazione, come abbiamo detto prima, quando abbiamo parlato dei procedimenti che va a seguire Alice. Successivamente viene fatta una misurazione anche di questo stato, appunto, si misurano entrambi, e poi che cosa va a fare, Bob, che in realtà devo ancora parlarvene, ma ve lo riassumo qui. Va ad applicare un gate X sulla misurazione M2, quindi sulla parte di coppia RP misurata di Alice, e successivamente va a applicare un gate Z in base alla misurazione ottenuta da Alice su V, dopo che è stato passato, dal gate C-not e dal gate Adamard. Dunque, il circuito quantistico offre una descrizione più precisa, come abbiamo detto prima, del teletrasporto quantistico. Lo stato da teletrasportare, come vi han detto, è V, e in sostanza sapete che V, adesso ve lo scrivo qua, V è poi sempre uguale a α0 più β1. Ovviamente dove α e β sono le ampiezze sconosciute. Lo stato in input al circuito, ovviamente è V0. Dunque, andiamo a scrivere V0 come 1 su radice di 2, alfa 0 per 0, 0, più 0, 1, più β1, 0, 0, più 0, 1. Questo qua in realtà è 1, 1. E qui per convenzione attribuiamo i primi due cubits, a sinistra, ad Alice, e il terzo cubit a Bob. Come spiegato precedentemente, il secondo cubit di Alice e il cubit di Bob partono da uno stato RP. Alice invia i suoi cubit a Bob tramite il gate C-not. E quindi dopo il gate C-not andiamo a ottenere V1, che è uguale a 1 su radice di 2, α0, 00 più 01, in realtà qui è 1, 1, più β1, per 1, per 1, 0, più 01. Quindi in sostanza qui ci troviamo con V0, qui invece abbiamo V1. Ora procediamo perché lei può inviare il suo primo cubit al gate di Adamard, ottenendo V2, che è uguale a un mezzo alfa per 0, più 1, per 0, 0, più 1, 1, più β, 0, meno 1, 1, 1, 0, più 0, 1. E dunque qui otteniamo V2. Ora vado a cancellare le prime due righe perché V2, la formula scritta, si può migliorare. Dunque V2 possiamo scriverlo come V2 uguale che ha un mezzo sempre che moltiplica 0, 0, per alfa, 0, più beta, 1, più 0, 1, sempre per alfa, 1, più beta, 0, più 1, 0, per alfa, 0, più beta, 1, anzi, meno beta, 1, più 1, 1, per alfa, 1, meno beta, 0. Questa espressione che abbiamo appena scritto si scompone naturalmente in quattro termini, come vedete, 1, 2, 3, e 4. Il primo termine ha i cubits di Alice nello stato 0, 0, e il cubit di Bob nello stato alfa, 0, più beta, 1, che è lo stato originale di V. Se Alice svolge una misurazione, ottiene il valore 0, 0, classico. Successivamente, il sistema di Bob si troverà nello stato V. In modo simile, dall'espressione precedente, possiamo leggere lo stato di post misurazione di Bob dato dal risultato della misurazione di Alice. Ora bisogna che cancello qua sopra perché, in sostanza, lo stato di post misurazione, quindi questo qui sarebbe V3, del quale ne parleremo ora. Quindi andiamo a vedere qual è lo stato di post misurazione di Bob. Abbiamo 0, 0, V3 di 0, 0, che è uguale a alfa 0, più beta 1, più beta 1, 0, 1, quindi V3 di 0, 1, che è uguale a alfa 1 più beta 0, 1, 0, 1, 0, quindi V3 di 1, 0, che è uguale ad alfa 0 meno beta 1, e infine l'ultimo, 1, 1, 1, che diventa V3 di 1, 1, uguale ad alfa 1 meno beta 0. Quindi in base al risultato di Alice, il qubit di Bob assumerà uno di questi quattro possibili stati. Ovviamente Bob, per sapere in quale stato si trova il suo qubit, deve sapere il risultato della misurazione di Alice. Per questo motivo non sono possibili scambi di informazioni a velocità superiori a quella della luce. Comunque ne parleremo anche verso il termine del video. Una volta che Bob conosce la misurazione di Alice, può aggiustare il suo stato, recuperando V, ovviamente, applicandogli il gate quantistico corretto. Quindi, di cosa stiamo parlando? Vedete che ci sono questi due gate qui in fondo. E dunque, ad esempio, se la misurazione fornisce 0, 0, allora Bob non deve fare nulla. Se la misurazione fornisce 0, 1, allora Bob applica il gate X e basta. Se la misurazione fornisce 1, 0, allora Bob applica il gate Z e basta, senza X. Se la misurazione fornisce 1, 1, Bob a questo punto applica prima il gate X e poi il gate Z, ovviamente. Riassumendo, Bob cosa deve fare? Deve applicare, in sostanza, le trasformazioni X, M2, Z, M1 al suo qubit per ottenere lo stato di V. Torniamo un momento al paradosso della velocità della luce. Quindi, il teletrasporto quantistico consente di inviare stati quantistici a velocità superiori di quella della luce? Questo sarebbe piuttosto strano, in quanto la teoria della relatività afferma che informazioni che viaggiano a velocità maggiore di C, come credo non abbia già parlato, vengono trasmesse nel passato. Fortunatamente, il teletrasporto quantistico non consente lo scambio di informazioni a velocità maggiori della luce, in quanto per completare il teletrasporto Alice deve inviare a Bob il suo risultato di misurazione tramite un canale classico, il quale ovviamente consente velocità inferiori a C. Per canale classico si può anche intendere, ad esempio, un doppino telefonico oppure il cavo Ethernet, o volendo anche la fibra, ecco. Un secondo dubbio sul teletrasporto quantistico potrebbe portare a pensare che esso vada a creare una copia dello stato quantistico teletrasportato, e sapete che questo non deve essere possibile, che è in apparente violazione del teorema di non clonazione. Questa violazione è solo illusoria, siccome dopo il processo di teletrasporto solo il qubit target si trova nello stato v e il qubit di dati originale termina in uno degli stati computazionali di base 0 oppure 1, a seconda dello stato di misurazione sul primo qubit. Quindi ragazzi per la puntata di oggi questo è tutto, lasciateci un like se vi è piaciuta, scriveteci qui sotto nei commenti per eventuali domande, ma soprattutto iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi i prossimi video e seguiteci sui social per eventuali aggiornamenti. E noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao! Ciao!